Benvenuti o bentornati qua nel mio canale. Come al solito cerco di rendermi utile per chi mi segue, portando dei consigli, portando dei tutorial, con informazioni magari anche su nuovi prodotti, con prodotti e offerte anche da evitare e non cadere in tranelli. Ho diversi video nel canale, chi mi segue lo sa, su questi argomenti, ma oggi voglio evidenziarvi come sempre più droni entrano a far parte della nostra quotidianità e sempre più aziende offrono in cambio di prove d'acquisto droni in regalo. E approfitto per imbeccarvi con un'offerta che in molti mi hanno condiviso in privato. Stefano, Silvio, Carlo che ringrazio e approfitto divulgando proprio questa cosa in questo mio video. Chissà che qualcuno non possa approfittarne. Ma prima di iniziare, come mio solito, se volete, potete dimostrarmi il vostro affetto, semplicemente con un like a questo video. E sempre, se volete, perché no, un'iscrizione al canale sarebbe fantastica. Poi, se non volete iscrivervi, va bene lo stesso, spero che comunque questo mio video possa tornarvi utile. Dunque, si inizia. Ormai i droni li vediamo spesso nelle pubblicità e succede sempre più frequentemente per creare i contenuti oppure addirittura anche trasportano il prodotto pubblicizzato. Mi viene in mente la pubblicità a Bauli, a Natale, che portava il Pandoro proprio il drone. Ma non solo, si stanno verificando sempre più casi in cui le aziende regalano droni ai propri clienti, con concorsi e altro. Pensate che sono già diversi anni che aziende regalano droni proprio a coloro che hanno acquistato dei prodotti. Addirittura, mi ricordo, che nel 2017, proprio il primo, il bagliore, fu che comprando all'esserunga in un'unica spesa, se all'interno di questa spesa c'erano confezioni di galatine, di sperlari, di etorelle, mi sembra, o roba simile, portando lo scontrino si poteva vincere un drone Parrot. Erano circa una cinquantina in palio. Era un Parrot AR drone 2.0. A quei tempi il suo valore era 342 euro. Mi ricordo poi il piccolo tello, eccolo qua, che il mulino bianco ne regalava uno al giorno nella versione Bost Combo. Poi, se si andava a leggere le caratteristiche, mi ricordo, scrivevano alla camera 720p HD, descrivevano il drone come un drone con i sensori anticollisioni, con un telecomando portato a smartphone, dove questo drone poi alla fine non ha il radiomando suo. Vabbè, ma questi sono piccoli dettagli. L'importante è che ogni giorno regalassero un piccolo drone. E poi, che drone ragazzi, che drone? Il mio amatissimo tello. Anzi, io avevo tre batterie, guardate, mi si sono gonfiate, fottute, non funzionano più. E allora intanto me ne sono comprata ora recentemente una nuova, eccola qui, perché prossimamente state connessi che vi porterò un contenuto davvero carinissimo su di lui. Ovvio, sto parlando di questo concorso che è di un po' di tempo fa. Lui, il tello, si vinceva qualche anno fa, adesso non è più attivo. E poi, come quando Mars Italia metteva in premio con prove d'acquisto un Mavic Mini, uno a settimana proprio clienti. Insomma, è successo un paio d'anni fa. Poi, droni di minor qualità. Esempio, qualche mese fa circolava un'offerta dei vini Giordano che metteva in palio 10 droni W10 con videocamera, sempre con delle prove d'acquisto. Ma adesso, ecco che è attivo il nuovo concorso a premi. E ringrazio molti miei iscritti e amici che me lo hanno segnalato, così che magari, se vi capita, voi state vedendo il video, potete provare, nel caso acquistate che prodotto che lo fa vincere, potete magari vincerlo. Leggo che il concorso si chiama Gioca e vince e vola, lo ha indetto la San Pellegrino e va dal 2 maggio al 18 settembre. Mi sembra di capire che, grazie a acquisti su punti vendita, proprio fisici, tipo ipermercati, supermercati, discount, con un importo di 4 euro sulle Perrier, danno un drone DJ Mini SE a settimana in omaggio. Cioè, ovviamente, a estrazione, presumo, tra chi scrive e vale fino al 18 settembre 2022. Vi lascio, ovviamente, il link sotto, con il regolamento e, se è chiaro, questa non è una sponsorizzazione solo a San Pellegrino. Io, cioè, non ci incastro nulla a San Pellegrino. Ho solo divulgato una notizia che mi hanno inviato vari iscritti e amici e ritengo potrebbe essere utile a qualcuno, anche perché no, a chi vede questo mio video. Bene, non mi resta che salutarvi. Spero che questo contenuto, un po' particolare, dove abbiamo fatto un po' di storia, ma vi ho dato anche uno spunto per avere magari un drone gratis, perché no, se andate a supermercati provate a vincerlo. Danno i Mini SE della DJI gratis. Vi abbraccio e vi aspetto nei miei profili social, Instagram, Facebook, Telegram, ma anche TikTok, dove posto via via cose, spero, interessanti. Un saluto dalla Toscana, vi voglio bene, ciao a tutti ragazzi dai Bighe.